La regina della notte Inaugurata a Palazzo del Pegaso l'esposizione Racconti e Suggestioni di Alessandro Gavilli con 20 opere dell'artista cortonese. La mostra sarà visitabile fino al 18 giugno. Al Via Appienza la decima edizione dell'Emporio Letterario. Il festival è stato presentato a Palazzo del Pegaso. L'appuntamento è dal 10 al 12 giugno nel centro nirascimentale della Val d'Orcia. Un libro emozionante scritto da un amico che non finisce di stupire. Direttore d'orchestra è diventato grande scrittore. È la fotografia che il presidente del Consiglio regionale della Toscana fa di Francesco Pasqualetti nel corso della presentazione del suo libro La regina della notte. Il romanzo, edito da Rizzoli, è ambientato nell'Europa di fine Settecento, mentre infurra la rivoluzione francese e racconta il sogno di Gloria e di Caterina la Grande di Russia, un intreccio di protagonisti che hanno fatto la storia con la musica di Domenico Cimarosa e di Mozart e il piano dell'imperatrice per dominare il mondo. La regina della notte è un capolavoro, un capolavoro che attualizza la grande storia della nostra regione. Francesco Pasqualetti per me è prima di tutto un amico, un amico che ho scoperto non solo essere un grande direttore d'orchestra, ma anche un grande scrittore, che con modernità è riuscito a raccontare pezzi di storia fondamentali per la nostra regione. Dicevo prima a Francesco che leggendo queste pagine, che si leggono velocemente, si trova tutta la sua maestria nel tenere insieme voci differenti. Ci sono tanti personaggi e a ognuno di quei personaggi viene data centralità, centralità che poi attraverso più voci diventa polifonia. E quindi davvero un libro che secondo me segnerà anche la storia della scrittura moderna, della scrittura del nostro tempo. È un libro incredibile dove la storia della Toscana svolge un ruolo molto importante. Da alcune ricerche storiche, in parte inedite, pare ci sia un collegamento fra la morte di Mozart, avvenuta a Vienna, e la morte di Leopoldo II, che altri non è il nostro Pietro Leopoldo di Toscana. Avvenuta in un momento in cui l'imperatore stava tentando di liberare sua sorella, Maria Antonietta. Un ciclo di morti inspiegabili legate da un filo conduttore che riporta all'attualità. In quel mese del 1792 la Polonia dell'epoca voleva occidentalizzarsi, aveva varato la più moderna Costituzione europea e la Russia non lo permise e la invase. Tutto questo poteva avvenire anche a causa di queste morti. Una storia tra musica e diplomazia che ha un richiamo con l'oggi incredibile. Si tratta di un romanzo storico ambientato nel quinquennio 1787-1792, nel quale il maestro direttore d'orchestra Francesco Pasqualetti, neoscrittore, riesce a ricombinare, ricomporre documenti originali dell'epoca per introdurre un'ipotesi storiografica nuova. E' assolutamente romanzesca, quindi è un romanzo in cui tutti i personaggi sono personaggi storici, veramente esistiti, tutti i fatti raccontati sono fatti realmente accaduti. E tuttavia io qui non dirò la trama, perché nella trama c'è un colpo di scena. E' un giallo, è un thriller, si legge volendo anche tutto di un colpo, o lo si può leggere con calma perché è scritto molto bene, con capitoli. E i personaggi sono dei personaggi giganteschi, Leopoldo di Toscana, Mozart, personaggi minori ma non così minori come il maestro Cimarosa o il conte Razumonski. E poi c'è lei, la protagonista, la zarina, Iacaterina II, con la sua perfidia, la sua cattiveria, la sua follia russa, la sua mania di grandezza russa, anche se lei russa non era, che emerge violentissimamente in questo romanzo. È stata inaugurata lunedì 6 giugno presso lo spazio espositivo Carlo Azeio Ciampi di Palazzo del Pegaso la mostra racconti e suggestioni del pittore cortonese Alessandro Gavilli. Fratellanza, Recovid-19, Maternità, Terzo Mondo sono alcuni dei titoli delle 20 opere esposte che attraverso il bianco e nero e tocchi sapienti di colori riescono a evocare una sintesi metafisica e simbolica tra vita e sogno, mito e realtà. Credo che uno dei fili conduttori sia proprio qui davanti, la fratellanza, il tentativo dell'artista di scavare a fondo i sentimenti, i valori, specialmente in un periodo così delicato, infatti un'altra opera è proprio relativa al Covid-19. E' uno studiare, uno meditare lo spirito umano, ritrovare i valori che sono profondi, che sono antichi, come la nostra cortona da cui proveniamo sia io che l'artista e che oggi riceve qui a Firenze un bel segnale anche di attenzione per il nostro territorio. Questo palazzo continua ad aprirsi verso l'esterno e lo fa oggi accogliendo uno degli artisti cortonesi di cui sono più legato anche dal punto di vista umano perché ecco ci piace passare del tempo insieme, sono amico di Alessandro e sono veramente contento che oggi la sua arte, il suo lapis sia protagonista di questa mostra in Consiglio regionale. Questa mattina è una mattina speciale perché sto esponendo in uno dei locali più prestigiosi di Firenze e ho cercato di dare il meglio per quanto riguarda il pensiero, quello che uno può trasmettere alle persone e tutto quello che disegno, tutto quello che faccio come ad esempio Africa che rappresenta la tragedia dei profughi oppure chiaramente Fratellanza oppure il Covid-19 ma ce ne sono anche altri come Toro Loco raccontano delle storie, delle storie umane in cui ognuno si può rappresentare e riflettere perché al giorno d'oggi manca molto la riflessione, le persone sono molto più legate al vedere, al mangiare e fuggire invece c'è bisogno di pensare, di riflettere e di ascoltare. La mostra attraversa un po' tutti i momenti più significativi della pittura del Novecento, dall'espressionismo al cubismo all'astrattismo, insomma c'è un po' di tutto, una sintesi diciamo di queste correnti pittoriche che Alessandro Gavilli riesce in qualche modo a fissare in questi argomenti che egli intende comunicare allo spettatore, ecco non è più l'interesse verso il quadro ma l'interesse verso chi osserva in modo che i sentimenti che egli cerca di sintetizzare in questi dipinti possano giungere allo spettatore e migliorarlo soprattutto. Una sinergia d'eccezione tra l'amministrazione comunale di Pienza e l'Associazione Culturale Compagnia del Teatro Caffeina per un festival sulla letteratura e sui libri nella cornice unica del Centro Rinascimentale della Val d'Orcia dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel 1996 ed è proprio in questo territorio che dal 10 al 12 giugno si terranno presentazioni di libri, approfondimenti sul mondo della letteratura, dell'editoria, del giornalismo culturale e di ogni altra forma di espressione artistica. Pienza diventerà una vera e propria cittadella della cultura, piazze, vicoli, palazzi e cortili della cittadina per creare un connubio costruttivo tra scrittori e cittadini. È un'iniziativa davvero bella che pone al centro il tema della cultura vista a 360 gradi. Noi conosciamo tutti Pienza per essere un gioiello prezioso della nostra regione, uno dei luoghi più incantevoli. Però Pienza non è solo arte e bellezza, Pienza è anche terra di cultura e questa tre giorni è un modo per tenere insieme a Lettio Magistralis la possibilità di confrontarsi con gli artisti più importanti del nostro tempo, un modo per apprendere e per cercare di attualizzare. Viviamo un tempo complesso, non siamo stati più abituati da un anno e mezzo ad iniziative, eventi che siano sul territorio, ci facciano ritrovare. È tempo di ascoltare ma è tempo anche di cercare di anticipare quello che sarà. E allora questi giorni saranno giorni importanti non solo per Pienza ma per tutta la Toscana. Consentitemi di ringraziare la collega Elena Rosignoli per aver voluto questo momento qui in Consiglio regionale. Questo è un luogo che noi vogliamo sempre più aprire a tutte quelle iniziative che parlino al cuore delle cittadine e dei cittadini della Toscana. La cittadina di Pienza non ha bisogno di presentazioni, è patrimonio unesco dal 1996, si affaccia sulla splendida Val d'Orcia e non ha bisogno di presentazioni e nonostante questo è una cittadina molto attiva a livello culturale ed ospita sempre iniziative degne di nota e l'emporio letterario che si terrà il prossimo fine settimana è uno di questi. Vede moltissime iniziative nelle piazze, nei piccoli borghi, tutto il paese, tutta la cittadina sarà ricca di eventi e angoli con iniziative culturali legate alla lettura, al libro e alla cultura oltre a degli spazi che prevedono sia un emporio del fumetto e l'emporio musicale. Con ospiti d'eccezione quest'anno ci sarà Giovanni Allevi nella splendida cornice della Cappella di Vitaleta un altro luogo famosissimo nel cuore della Val d'Orcia che farà da cornice ad un evento sicuramente importante e molto bello. All'interno dell'emporio letterario come tutte le precedenti edizioni c'è la ricerca e l'interesse per incontrare scrittori, saggisti, letterati in senso generale, c'è musica, c'è presentazione dei libri, ci sono degli interventi interessantissimi anche dei uomini di studiosi per esempio quest'anno sull'archeologia, quindi c'è un po' di tutto c'è la musica, ci sono concerti e soprattutto c'è questa sorta di connubio unico tra quelle che sono i cittadini o gli ospiti di Pienza e gli scrittori letterati che vengono e nelle strade di Pienza, nelle piazze si incontrano e hanno la possibilità di in qualche modo sposare quelle che sono la bellezza dei luoghi con incontri culturali di altissimo livello. È un territorio usando un termine agronomico vocato a questi aspetti, nel senso che a Pienza sanno tutti che per 30 anni è vissuto Mario Luzzi e tanti altri letterati sono venuti a Pienza proprio per vivere in tranquillità questi momenti e questi territori, quindi nasce come città ideale, nasce come una città che deve offrire stimoli culturali continuativi e l'emporio letterario è in continuità con questo progetto che Pio Secondo gli aveva dato oltre 500 anni fa. Quest'anno è un anno un po' particolare, un po' speciale, definiamolo così, visto che sono i dieci anni, dieci anni dell'emporio letterario e su questo abbiamo investito molto anche quest'anno, i nomi che trovate nel programma sono di assoluto livello, a cominciare da Giovanni Allevi per il suo chiacchierata concerto o anche con Zaki Awas che è forse il maggiore esperto di egittologia, scoperte appunto di Egitto e più i vari nomi dell'emporio letterario che sono stati messi insieme. Dicevamo prima anche con gli altri nostri amici, è una stagione un po' particolare, ripartiamo dopo due anni come tutti sappiamo di situazioni molto complicate e molto difficili, ci sono molte attività anche culturali, tantissime, che stanno riprendendo in questo periodo per cui è stato veramente difficile riuscire anche a, come dire, distinguere tra le varie offerte, tra le varie proposte quale potessero essere più idonee appunto per un decennale come questo del Festival. Grazie a tutti!